Ciao a tutti e bentornati sul canale! Allora, oggi voglio parlarvi di tutti i cibi barra spezie che ho utilizzato nell'ultimo periodo e che mi sono piaciuti tantissimo, quindi volevo assolutamente consigliarveli. Non so se avete notato nei miei ultimi World of Night 3 Days, ho cambiato un pochettino alimentazione. Alcuni di voi me ne hanno chiesto, mi hanno detto ma come mai, ma sei diventata vegana, sei diventata vegetariana? No, non sono tutto ciò, ma sto cercando di sperimentare nuove ricette, cioè mi piace tantissimo sperimentare queste ricette vegane dove magari non c'è la carne, dove non ci sono derivati animali e vedere se appunto sono uguali alle originali. Mi piace tantissimo questa cosa e quindi ultimamente sto mangiando così, però non vi nego il fatto che sto evitando la carne, cioè proprio non la sto mangiando ultimamente. E questa cosa non mi dispiace affatto, però può capitare insomma di vedere nei miei quotidiani che magari mangio del salmone o magari del petto di pollo. È normale perché comunque come vi ho detto non sono vegana e non sono vegetariana. Cerco comunque di mangiare sano, quindi non mangio tutti i giorni carne, assolutamente no, può capitare una volta a settimana o comunque pesce, idem, può capitare una volta a settimana, ma non è che mangi chissà che cosa. Cioè l'unico pesce che mangio sono magari dal mare, può capitare, quindi la frittura che proprio non riesco a farne a meno, mi piace tantissimo, è il salmone, idem la carne, l'unica carne che mangio è il petto di pollo, quindi la carne bianca, per questo non sono una grande mangiatrice di carne. Voglio farvi vedere alcuni cibi che sto amando e che voglio consigliarvi, perché comunque mi sono stati utili nell'ultimo periodo nella mia alimentazione. Voglio partire proprio dal burro di arachidi. Allora, ho assaggiato per la prima volta il burro di arachidi a casa di mia sorella ed era uno di quei burri di burro di arachidi all'interno di quei barattoli di vetro. L'unica cosa che all'interno aveva sale e zucchero, se non sbaglio, comunque era condito e quindi la prima volta che lo assaggiai non mi piacque per niente. Il suo era a crema. Io invece questa volta ho voluto assaggiare il burro di arachidi crunch. Allora, questo burro d'arachidi che ho preso da MyProtein è un burro d'arachidi naturale, all'interno non c'è né sale né zucchero, infatti tra gli ingredienti c'è scritto 100% arachidi. Allora, è burroso, però all'interno ci sono i pezzettini di arachidi, quindi è crunch ed è un sapore migliore, secondo me, al burro d'arachidi. Quante volte avrò detto burro d'arachidi? Contatelo, potete sapere. Allora, questo qui l'ho assaggiato e lo adoro, mi piace tantissimo, lo utilizzo specialmente sulle gallette di riso. Il mio Wota Itnia Day, se non sbaglio, è l'ultimo che ho fatto, vi faccio appunto vedere come lo utilizzo. Lo metto un po' sulle gallette di riso con la banana, con un po' di sciroppo d'agave, goccia di cioccolato, insomma, è veramente buono. Oppure lo utilizzo per creare le barrette, le barrette energetiche. Se non avete visto il video, vi lascio sempre cliccando sulla i a destra la ricetta delle barrette. Quindi io ve lo straconsiglio. Questo qui, che l'ho preso, ricordo, su MyProtein, l'ho pagato in offerta da 9,90, se non mi sbaglio, a 6 euro e qualcosa, perché c'era il 30% di sconto. Non so se c'è ancora lo sconto, andateci a dare un'occhiata. Questo è bensì un chilo e l'ho già finito, è già a metà. L'ho dato un pochettino a mia sorella, però comunque sta finendo perché mi piace davvero tanto. Non immaginavo che il burro d'arachidi potesse piacermi così tanto. Sempre da MyProtein. Vi consiglio assolutamente di acquistare questo sciroppo di agave, 100% agave, ed è bio questo qui. Allora, anche questo in offerta da 5 euro, se non sbaglio, poi comunque vi scrivo bene tutti i prezzi, perché non mi ricordo. L'ho pagato col 30%, quindi intorno ai 4, 3 euro, 4 euro. Adesso non mi va di fare calcoli. Comunque sia, è veramente buonissimo. Non l'avevo mai assaggiato e devo dirvi la verità, è davvero un ottimo sostituto allo zucchero. Va bene nel caffè, va bene nei dolci, va bene come glassa per accompagnare magari i pancakes, oppure come vi ho detto prima sulle gallette di riso, oppure all'interno delle barrette proteiche. Insomma, è davvero un ottimo sciroppo. Poi, un'altra cosa che vi straconsiglio, che ho acquistato da Amazon, e l'avete visto sempre nei miei video, è questo olio di cocco. Questo è un chilo, è un olio di cocco bio, e si usa sia per cucinare che per la cura appunto della persona, sui capelli, sul viso, come volete. È molto versatile, ed è ottimo per l'alimentazione vegana e vegetariana. Questo qui lo tengo in frigo perché ho paura che col caldo irrancidisca, quindi lo lascio lì, e poi magari quando lo devo utilizzare riesco comunque a prendere un cucchiaino, anche se è solito, stanto si scioglie subito sulla padella. E mi sta durando tanto, ovviamente perché non utilizzo pochissimo giusto per cucinare, o magari giusto per metterlo un pochettino sulle punte dei capelli, ecco tutto. Questo qui lì, che ho preso ricordo da Amazon, l'ho pagato 12,99 euro, senza spedizione se non sbaglio. Però, senza spedizione, perché mi sono provata con questa offerta, ma credo che la spedizione sia all'incirca 4,90 euro, massimo 5,99 euro, non di più. È arrivato prestissimo, tipo in 5 giorni. E dicevo, ve lo straconsiglio, perché costa davvero poco, quindi se siete amanti dell'olio di cocco, lo utilizzate tanto, vi consiglio di prenderlo. Un'altra cosa che vi consiglio, che ho trovato alla coppa, è questo latte di soia bio. Scusate se sentite i rumori, ma stavo facendo dei lavori, quindi mi dispiace di sentire il rumore del trafa, ma cercherò di urlare il più possibile. Questo è senza glutine, senza zuccheri aggiunti, fonte di proteine e con calcio. Allora, questo latte di soia mi ha colpito, non è bio, ho letto bio, non so perché. E la soia sì, la marca, non è bio, ho letto bio. E mi ha colpito tantissimo perché è una bevanda senza zuccheri all'interno, ed è raro trovarne senza zuccheri e senza altre schifezze all'interno. Vi dico quello che c'è. Acqua, semi di soia di origine italiana decorticati, il 6%, di solito all'interno del latte di soia, comunque la percentuale è quella, 6-7, è raro trovarne di più, calcio carbonato, 0,3% e sale marino, quindi mi sembra un ottimo latte di soia, è molto pulito come inci, tra virgolette. Io ho visto tanti tanti insaporitori, tanti conservanti, insomma, non è proprio il massimo, mentre questo sembra abbastanza pulito e naturale. Allora, questo qui è ottimo non solo da bere, ma soprattutto è ottimo per preparare in casa delle salsine. Per esempio, è ottimo preparare la maionese con questo, proprio per il fatto che non ha lo zucchero all'interno, quindi la maionese è davvero davvero buona, soprattutto con qualche spezia. Io vi consiglio di utilizzarlo. E inoltre, alla Copp costa solamente 99 centesimi, quindi è un ottimo prodotto ad un piccolissimo prezzo. Sempre alla Copp ho preso e ho trovato queste erbette biologiche per verdura. Ci sono anche erbette per carne, per insaporire la carne, per insaporire il pesce, e ho preso queste perché all'interno c'erano delle verdure molto interessanti, cioè delle spezie molto interessanti, tipo origano, baggiorana, basilico, prezzemolo, aglio, timo, cipolla, erba cipollina, finocchietto, e non c'è sale all'interno. Per insaporire i piatti sono molto molto buone. Io queste erbette le ho utilizzate per farcire delle polpettine che poi vedrete qui in là, che poi vi verrà la ricetta, non vi preoccupate, sono davvero ottima. Ho scoperto e ho provato per la prima volta la farina di ceci. Questa qui è la farina di ceci delle farine omagiche, che si utilizza proprio per la ricetta della farinata. La farinata è una specie di frittata senza uova, fatta solamente con farina di ceci. Vi ho fatto il video, uscirà presto, l'ho fatta vedere nel Water Itiner Day che uscirà la prossima volta, non questa domenica ma l'altra. Se volete Water Itiner Day prima di domenica, tipo in mezzo alla settimana, fatemelo sapere, così magari lo carico prima. E mi piace tanto, questa è senza glutine, è vegan, e la frittata è venuta davvero buonissima, anche perché poi dietro c'è tutta la ricetta, e all'interno c'è anche un piccolo sacchetto, con tutte le erbette reumatiche, che sono servite diciamo a insaporire la mia frittata. Quindi anche questa super super consigliata. Poi ho provato per la prima volta in realtà, perché volevo prenderla da tanto, ma non so perché non l'ho mai presa, la panna vegetale alla soia. Questa è quella della Granarolo, 100% vegetale. Sono soia italiana, c'è scritto, e aromi naturali. Allora, devo dire la verità, non è male, specialmente utilizzata al posto della panna, magari quando fate dei piatti senza pomodoro, ecco, dei piatti bianchi, e poi io l'ho utilizzata anche magari per condire anche delle salsine. Ecco, la sto utilizzando in vari modi, e mi piace veramente tanto. Allora, la confezione da 3, l'ho pagata 1,25 euro, più o meno il prezzo è uguale a quello della panna, solo che appunto è vegetale, e ve la consiglio perché comunque il sapore è molto simile alla panna da cucina. Vabbè, un po' si sente la soia, ma a me non dà fastidio perché ormai sono abituata, quindi è veramente molto molto buona. Un'altra cosa che vi consiglio di provare se siete vegetariani, perché se non mi sbaglio il prodotto non è vegan, ma è vegetariano, sono gli hamburger di cilici della Despar, della marca Veggie. E non ho controllato bene gli ingredienti, ma forse all'interno della panna pura c'è forse tracce di uomo, non mi ricordo, devo controllare, comunque vi faccio sapere. Ed è davvero ottimo, sono due, sono due hamburger, e li adoro, hanno un sapore buonissimo. Quindi andate di fretta, volete mangiare qualcosa, non volete mangiare la carne, vi consiglio di provare quelli, perché davvero sono la fine del mondo. Un'altra cosa che sto utilizzando tantissimo, e che potete trovare alla Lidl, è il latte di cocco, quello nel lattina. Ci sono due tipi, uno con la scatolina verde, che è un po' più grasso, e l'altro con la scatolina, diciamo, celeste, che è un po' più light, a meno grassi. Tutti e due sono molto buoni, e possono essere utilizzati per varie ricette. Se lo volete bere, vi consiglio il light. Se volete preparare delle ricette, di dolci, per esempio, vi consiglio quello che ha un po' più di grassi. Uno costa di più, tipo 1,90€, o 1,50€, che è quello verde, e invece quello light, costa 99 centesimi. vedrete prestissimo, domenica, questa volta, una ricetta di un dolce fantastico, adatto per l'estate, dove ho utilizzato questo latte di cocco. fine, li prendo sempre, sempre, sempre alla pop, sono questi, questo farro soffiato al cioccolato, che cosa non è buonissimo nel latte, oppure per fare la granola, che è il muesli, praticamente, i cereali, proprio quelli che vanno nel latte, io li metto all'interno, e sono buonissimi. vi faccio vedere poi più in là, come faccio la granola in casa, e c'è anche la quinoa soffiata, che non ho mai provato, ma che devo assolutamente provare, perché mi ispira moltissimo. Questo ormai lo compro da tanto tempo, quindi vi posso assicurare che è buonissimo, specialmente se vi piace il farro. Allora, questo è tutto, questi sono i miei preferiti cibo, spezie, che ho provato nell'ultimo periodo, e che volevo assolutamente consigliarvi. Se avete voi qualcosa da consigliare a me, mi raccomando, scrivetelo giù nei commenti, perché voglio provare assolutamente altre, magari altre spezie, altri condimenti, fatemi sapere, mi raccomando, datemi qualche consiglio. Questo è tutto, vi mando un grossissimo bacio, e alla prossima, ciao! Grazie!